Nessun abuso d'ufficio, nessun falso ideologico. L'ex governatore Michele Iorio e attuale consigliere regionale della minoranza di centrodestra è stato assolto dalle accuse contestategli nel processo per la vicenda Open Gates. L'avvocato Arturo Messere ha dimostrato in aula l'estraneità di Iorio alle ipotesi di reato della procura. È un processo che viene dalla vecchia gestione della procura di Larino e i capi di accusa non avevano nessun fondamento a mio avviso. Ho dimostrato che ha operato nell'interesse della pubblica amministrazione, che era costume consuetudine di Michele Iorio, nominare come commissario nei vari enti che si scioglievano, che non potevano funzionare ordinariamente, sempre il presidente dell'organo ordinario. Quindi qui non c'era stata nessuna immutazione e si era seguito una prassi, una consuetudine che peraltro non implicava costi aggiuntivi per l'Ende, in quanto la retribuzione del commissario era la stessa del presidente del consorzio. E quindi non c'erano né violazioni di legge e né c'erano profitti da parte, appunto, nel caso di specie del torto e non c'era danno per la pubblica amministrazione. Ho difeso Iorio in 16 occasioni ed è stato sempre prosciolto, ha sottolineato Messere. Tutte le volte gli hanno contestato abuso d'ufficio e falso ideologico, non potendogli di certo contestare reati di grassazione. Parlo sempre di reati contro la pubblica amministrazione. E ogni volta che dipendenti della regione, funzionari e altri soggetti venivano portati a giudizio, contestualmente per tutti questi anni in cui l'ho difeso veniva aggiunto, come ho detto prima, un abuso d'ufficio o un falso ideologico per Michele Iorio. Questo fatto mi ha fatto ricordare Catone il censore, il quale ogni volta che finiva davanti al Senato Romano il suo discorso diceva, ecco, delenda Cartago, bisogna distruggere Cartago, bisogna distruggere Cartagine. E allora mi è sembrato che per tutti questi anni si è detto bisogna distruggere Iorio. Ma mi pare che nessuno ci è riuscito perché abbiamo sempre trovato giudici intelligenti, colti e sereni. E questo fatto ha reso giustizia a Michele Iorio.